mi chiedo scusa a tutti ognuna volta per i maltrattamenti che mi stai chiesto no ma io ti ho fatto mettere il centro apposta perché ti vuole bene eh? si si no ma in un certo senso è così che teniamo bene noi è vero che sono ok sto cercando di tenermi con i piedi arborrati lì sotto ma più di tanto non riesco è chiusa la porta si ho notato che finchè guardo nella telecamera mi viene meno un'houser quando mi dico me la voglio modere ciao è la volta pure ho uno qua è già un po' che c'era lì solo che faceva da elastico stava un po' indietro un po' avanti non riuscivo a capire dove andava poi l'ho perso ho detto va beh via ho pensato che fosse troppo all'interno allora ho detto lascia andare perché non mi è piaciuto l'ho visto in due curve che non mi è piaciuto andare l'ho girato pure con me eh eh vedi cinque porte comoda e station e dai la paga anche la Ferrari vabbè quella del S6 no? S4 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 vabbè RS4 RS ma è quello che conta se non mi è piaciuta ma è che si è incazzata perché non mi è piaciuta non mi è piaciuta riusciuta si non mi si riusciva che era una bellezza la macchina vabbè ci siamo anche in 5 Sì siamo in 5 eh con abbastanza carico io sono quasi 80 kg poi sì siamo in 5 kg per farse Carlo è l'operatore sento in uscita si però se fa solo sul rettilineo così sono tutti bravi no? no quello è bravo l'ho visto prima alla Scari e quello che sa guidare è impressionante come portava la Porsche quella è quello se infila nei punti più possibili ti ho aperto il finestrino non c'è problema ecco le macchine omologate che possono circolare in autotromo di Monza roll bar si scende si forse si adesso vedo Appena siamo sul rettilineo dall'altra parte Questo è il GT, c'è solo l'adesivo, come una mia Il GT c'è solo che? L'adesivo, però lì era il punto CT, l'adesivo, non è di questa macchina E mettiamo le liste, la punti di questo Il grande punto CT Non l'ho guardato perché io stavo tenendo d'occhio quello appunto No, c'era una bandiera gialla No, segnalava questo, questo l'ho visto Però tenevo d'occhio quello appunto perché non Ho passato tra la prima di Lesmo e poi non sapevo bene nella seconda di Lesmo dove l'avrei trovato perché Non ti convinceva Non mi convinceva Perché guarda, devi stare più attento agli altri che a quello che guida quel problema Ogni accanto Grazie.